domani domenica 19 aprile alle ore 11 verrà celebrata la santa messa presso il cimitero di agropoli ufficiata dai parroci don carlo pisani e don bruno lancuba in commemorazione dei defunti che purtroppo a causa del covid 19 non hanno potuto ricevere un degno funerale la celebrazione si svolgerà a porte chiuse ma potrà essere seguita sulle pagine facebook delle due parrocchie sul canale youtube parrocchia e agropoli e sull'emittente cilento channel canale 636 del digitale terrestre e smart tv sul sito www.cilento channel.com domenica viene commemorata la festa della divina misericordia che quest'anno compie 20 anni da quando è stata istituita e per tutti i cristiani è un momento importante di preghiera